Allora, grazie, grazie a tutti perché avete partecipato, perché avete dimostrato veramente il vostro sostegno, il vostro credere nel progetto e nella squadra formata, grazie principalmente a Filippo che ci ha cercati uno per uno, ci ha trovati e ci ha fatto lavorare insieme, ci ha insegnato a lavorare insieme. Grazie a tutti, molto grazie a voi, in bocca a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, mi mancate voi due o tre, quello che vi ho visto, ma adesso speriamo di riuscire a vederci di nuovo tutti insieme, come l'altro anno. Ciao a tutti, ciao a tutti, è una bella famiglia, davvero. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao Stefano. Ciao. Ciao Marti. Ciao Luisa. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti.